I carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno arrestato un giovane classe 1997 di Giffoni Valle Piana per maltrattamenti in famiglia e violenza privata. Il ragazzo, già destinatario di un divieto di avvicinamento ai genitori emesso dal GIP di Salerno, si è recato presso la loro abitazione intraprendendo un'accesa lite e scaraventando numerosi oggetti a terra. I militari, una volta giunti sul posto, hanno riportato alla calma la situazione e arrestato il 21enne. Il magistrato di turno ha disposto il trasferimento in carcere per il giovane in attesa della convalida.